Il PSR è un programma di sviluppo rurale che è una grandissima opportunità per le aziende agricole nella campagna. Io, grazie al PSR, ho realizzato due interventi con la misura 121. Ho acquistato attrezzi agricoli innovativi e ho migliorato gli impianti già preesistenti. Ho utilizzato anche una misura 111, ho fatto un corso di formazione sulla conservazione dei prodotti agroalimentari e dopodiché ho impiantato in collaborazione con il Centro di Cresca Agricola di Ponte Cagnano un impianto di asparago selvatico. Ho ricevuto circa 90.000 euro. I benefici per la mia azienda sono stati un miglioramento qualitativo del prodotto finale, un abbattimento dei costi e un prodotto innovativo come la produzione di nocciolo di oliva. Senza il contributo del PSR io ho realizzato questi interventi in più anni, non in così breve tempo. Io ho incontrato solo alcune difficoltà burocratiche in serie di saldo. L'innovazione principale, quella che mi più piace, è la produzione di biomassa dalle olive, cioè del nocciolo. Noi estraiamo, grazie a una macchina acquistata con il PSR, il nocciolo dalla polpa di olive dopo la trasformazione in olio che ci fa recuperare una biomassa, quindi una funzione ambientale molto importante e ci fa recuperare circa 2 euro ogni quintale di olio prodotto. Ai giovani che vogliono prendere questa attività io vorrei dare un messaggio di speranza. Ci sono buone opportunità di lavoro e di far reddito in un contesto sociale come il Basso Cilento. Grazie a tutti. Grazie a tutti.